Inaugurazione nel Palazzo delle Poste Centrali di Via Pellicceria a Firenze della mostra sulle ali di San Michele, patrono della Polizia di Stato. La cosa bella è che questi ragazzi hanno visto il lato buono, tra virgolette, del nostro lavoro. Non ci vedono più come controllori o come vigilantes o come quelli che vanno sul web per cercare tracce di un qualcosa, ma ci vedono come degli amici a cui praticamente dare in mano la loro vita. Ci sono state tante confessioni perché è un anno che noi lavoriamo con questi ragazzi in liceo artistico ed è anche commovente vedere come poi hanno realizzato, secondo i loro occhi, con la loro penna, il nostro lavoro, perché non è soltanto San Michele ma il lavoro della Polizia. La mostra nasce da un progetto di alternanza scuola-lavoro ideato dal Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, unitamente al compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana di Firenze. Quanto è importante farvi conoscere anche dai ragazzi? Ma è importantissimo, questo riguarda un po' tutti, riguarda gli adulti, riguarda le istituzioni, riguarda il mondo della scuola, come anche viene presentata. Andiamo a parlare ai ragazzi e agli studenti di dire di affidarsi a chi indossa un uniforme, per qualsiasi motivo, per qualsiasi esigenza, perché è una risposta, anche se uno non ce l'ha nell'immediato, trova come poterla dare perché abbiamo delle competenze in ogni settore.